Se stai avendo difficoltà a far funzionare così il controller su Silent Hill 2 Remake, ovviamente è possibile risolvere il problema andando direttamente su gestione dispositivi, ma ovviamente se tu hai il controller collegato al computer ma sul gioco non funziona, vuol dire che c'è qualcosa che non va, quindi vanno anche aggiornati i driver del controller. Quindi collega così il tuo controller, io vado a connettere il mio controller wireless, attivo così il mio controller e vado su gestione dispositivi, tasso destro su Start, vai su gestione dispositivi ed eccolo qua periferica Xbox 360, ecco il mio controller, tasso destro sopra, aggiunga driver, cerca i driver nel computer, scegli da un elenco di driver disponibili ed eccolo qua, faccio avanti e installo così il driver sul mio controller. Una volta installato devi riavviare il tuo computer, facciamo chiude, qui c'è scritto riavviare il computer, ora e riavviare il computer, faccio no. Se non dovesse bastare, tasto destro sopra, prova a disabilitare il dispositivo e riavviare il computer, faccio no e abilitarlo di nuovo. Ora, chiudiamo un attimo qua e vai direttamente su controller, scrivi qua sopra controller, configura dispositivi di gioco USB e inserisci così il tuo controller qua dentro su periferica di gioco, vai su avanzate ed eccolo qua. Se su periferica preferite non c'è nessun controller, inserisci il tuo controller qua e fai ok. Su proprietà invece puoi vedere se il controller funziona perfettamente, come puoi vedere a me i tasti vanno benissimo e funziona. E chiudiamo qua. Se non dovesse bastare, prova anche a vedere se ci sono degli aggiornamenti da fare su Windows Update, quindi verifica disponibilità aggiornamenti ed eccolo qua. Verifica disponibilità aggiornamenti. Se non dovesse bastare ancora, possiamo direttamente scaricare il software che ti ho lasciato in descrizione che si chiama PlayStation Accessories. Ed eccolo qua. Se usi un controller della PlayStation, assicurati di connettere il controller con cavo USB oppure via Bluetooth. E provare a vedere se funziona sul gioco. Andiamo direttamente su impostazioni dei dispositivi Bluetooth e di altro tipo. Ed eccolo qua. Questo è il mio controller. Ci clicco sopra e rimuovo il controller definitivamente dal mio computer. Scollego anche la chiavetta. Riconnetto di nuovo la chiavetta. E attivo il controller. Ed eccolo qua. Xbox 360 per Windows. E chiudiamo qua. Ora entriamo sul gioco. Eseguiamo il gioco come amministratore. Facciamo esegui comunque. Facciamo sì. Ed ecco che il controller funziona. Vado direttamente su impostazioni. Ed eccolo qua. R1 triangolo. Me lo segno come triangolo. Cerchio. Gioco. Comandi. Iconi controller. Tipo B. Tipo C. E basta. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao. Ciao. Grazie a tutti